Ho un'esperienza stupenda, ho conosciuto gente fantastica in questi tre giorni e i concerti che ho fatto qui sono stati stupendi. Ringrazio Dario per avermi ospitato e invitato nel suo home restaurant in Napoli, Silvana che ci ha messo in contatto e tutti i ragazzi che ho avuto l'occasione di incontrare durante questi tre giorni, che sono stati molto emozionanti e soprattutto ho visto come condividere insieme serate di questo tipo faccia sì che molte persone, mettendosi in contatto tra di loro, riescano da piccoli passi e semplici cose a fare qualcosa per cercare di cambiare questo mondo assurdo che stiamo vivendo. La stessa settimana caricherò un po' di foto, un po' di video intanto vi godo gli ultimi momenti qui a Napoli, vado a prendere il treno. Ciao!